Bene, è arrivata l'ora del pranzo e come promesso oggi vi proponiamo un pranzo completo per circa 6 euro giù di lì, pensate un po', per 4 persone. E allora, il menù di oggi è da leccarsi i baffi, minestra di ceci e per secondo hamburger con contorno di insalata, pane e frutta. Va bene? Allora, per la minestra di ceci dobbiamo acquistare 400 g di ceci secchi confezionati, grosso modo sta su 1,25 euro, una lattina di polpa di pomodoro, 50 centesimi, una confezione di pasta per minestra, pasta corta, diciamo da 250 g, la classica confezione, stiamo intorno ai 30 centesimi. Poi serve una carota, un gambo di sedano con le foglie, una cipollina, un ciuffo di prezzemolo, un rametto di rosmarino, se c'è anche un peperoncino, ma naturalmente tutti questi ingredienti li consideriamo di averli in casa o al massimo ve li fate regalare dall'ortolano al mercato. Invece per il secondo dobbiamo mettere nel carrello o nella borsa della spesa quattro hamburger, quattro persone, quattro hamburger, diciamo che stiamo sui 2,30 euro. Poi un chilo di insalata, scegliete voi quale volete, ma grossomodo stiamo sui 90 centesimi, comunque sotto l'euro. E completiamo la nostra spesa con una ciabatta, quel pane piatto buonissimo, diciamo 230 g che stiamo intorno ai 90 centesimi. E poi ci mettiamo anche la frutta, mai dimenticare la frutta, 4 kg stiamo intorno ai 70 centesimi. Quindi rifacendo tutti i conti, grossomodo stiamo sui 6,85 euro, quindi quasi 7, però 6,85 euro. Bene, quindi abbiamo risposto alla nostra scommessa, diciamo, del 6x4, ma adesso andiamo a casa per la preparazione della minestra, questa buonissima, calda, profumata minestra di ceci. Per la preparazione della minestra di ceci bisogna organizzarsi la sera prima, perché? Perché bisogna mettere ad ammollare appunto i ceci in una terrina con abbondante acqua tiepita. Passata la notte, comunque la mattina, trascorso il tempo necessario, attenzione, questo tempo di solito è indicato sulla confezione. Sgocciolate i ceci, prendete una pentola e metteteli a lessare con abbondante acqua salata per circa un'oretta. Per preparare la minestra nel frattempo prendete una casseruola e fatevi imbiondire all'interno la cipollina e quando avrà preso un bel colore ambrato aggiungete i ceci e metteteci la giusta quantità di sale, ma anche di pepe, ci sta molto bene. Versate la carota in sedano tagliati a cubetti o a julienne e metteteci anche il pomodoro. Mescolate per qualche minuto, quindi aggiungete rosmarino e prezzemolo. Mescolate bene, attendendo la completa contura di tutti gli ingredienti, mi raccomando, a fuoco molto basso, chiudendo il tutto con il coperchio. Poi al momento opportuno aggiungere la pasta e servite subito caldissima. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensare ciò che mangiate. Poi passiamo al secondo, il secondo è molto semplice. Prendete l'hamburg, li mettete sulla piastra con un filo di olio, poi li mettete nel piatto, ci aggiungete un bel contorno di insalata condita con olio, sale e aceto per chi vuole, il pane per accompagnare il pasto e al termine del quale un kiwi ci sta veramente molto bene, vi dà la carica in vitamina C e questo vi protegge dai malanni stagionali. Quindi veramente un bel pranzetto davvero sano. Buon appetito!